di massimo galanto martedì 22 maggio 2018 si chiama francesco è un imprenditore calabrese 28 anni che si occupa di supermercati è l'identikit del nuovo fidanzato di paola caruso la bonus di avanti un altro ed ex concorrente dell'isola dei famosi lei che di anni ne ha 33 parla già di famiglia e di figli nell'intervista rilasciata al settimanale nuovo tv per noi la famiglia è importante prima di fare un figlio ci sposeremo siamo due persone un po vecchio stampo non è geloso del mio lavoro se vado in televisione scollata o se posto foto sui social lui sa bene che è soltanto per lavoro susciamo insieme invece non gli piace che io indossi una gonna troppo corta la starlette ha raccontato di aver conosciuto francesco all'aeroporto di lamezia è stato un vero e proprio colpo di pulmine lui stava davanti a me mi ha preso il bagaglio e mi ha detto ti aiuto ci siamo guardati negli occhi e mi sono innamorata non scorderò mai il nostro sguardo ho visto la sua anima è successo come nei film quando ti guardi negli occhi e ti innamori lui è il mio principe la coppia ora vive a monte carlo ma sta arredando anche una casa sulle rive del lago maggiore auguri e che l'amore trionfi vota l'articolo nessun voto potresti essere tu il primo i video del canale